Il nostro forte impegno per un ambiente intatto. Noi di Prefa prendiamo sul serio le nostre responsabilità. Tutela dell'ambiente e sostenibilità non sono solo parole per noi. Dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione e allo smaltimento. Saremo forti. Promesso. La nostra prima promessa. L'alluminio è un materiale sostenibile, perché l'alluminio può essere riciclato tutte le volte che lo si desidera, senza alcuna perdita di qualità. E i prodotti Prefa sono realizzati con alluminio riciclato fino all'87%. La nostra seconda promessa. L'energia elettrica che utilizziamo proviene per il 100% da fonti rinnovabili. Dall'energia solare, eolica, idroelettrica e dalle biomasse. La nostra terza promessa. I nostri prodotti mostrano i migliori risultati in termini di emissioni di gas serra. Meno di quattro alberi compensano l'intero valore di emissioni della produzione di un tetto Prefa medio entro i 40 anni di garanzia. Se il tetto viene riciclato in seguito, è sufficiente anche solo mezzo albero. La nostra quarta promessa. Prefa vanta un ottimo bilancio dei rifiuti. L'89% ritorna nel ciclo, quindi anche i nostri rifiuti diventano preziosi. Infatti rientrano in larga parte nell'economia circolare. Come potete vedere, non sono solo i nostri prodotti a durare per generazioni, ma anche il nostro impegno per un futuro sostenibile. Prefa. Forte come un toro.